Pacchino circolavano privi di patente da sempre senza assicurazione con coltelli in tasca, denuncianti due pregiudicati. Durante il normale controllo del territorio i carabinieri della stazione di Pacchino hanno fermato e identificato due pregiudicati del luogo, un 52enne e un 37enne entrambi trovati in possesso di coltelli di genere vietato. Le perquisizioni domiciliari presso l'abitazione dei predetti hanno permesso di rinvenire un personal computer e una carta post-pay risultati rubati. L'autovettura condotta dal 52enne è stata sequestrata poiché è sprovvista di copertura assicurativa e il conducente è sanzionato per guida senza patente in quanto mai conseguita. I due uomini sono stati denunciati a piede libero per ricettazione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.